Buongiorno a tutti. E' un maschio. E' un maschio. Decideriamo di non farsi prendere. Vediamo lo stesso. Vediamo. 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 Vediamo, ed è una femmina molto.. Indeparabile. Ho deciso di farsi un giro della casetta. Apriamo anche questa. Ecco lì. Giro. E' una camera. Si sono arrampicati di sopra. Non è che disposto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.